Siamo in compagnia di Mario De Angelis, presidente del CONFAT, siamo alle porte del 2017, sono dieci anni del Consorzio per la Forestazione, Ambiente e Territorio. Dieci anni importanti che sono serviti a costruire sul nostro territorio, soprattutto sui Monti Dauni, ma anche un dieci anni per programmare per il futuro. Sono passati dieci anni, dieci anni importanti, dieci anni che ci hanno visto impegnati sul nostro territorio con un contributo importante. Sono dieci anni dove in pratica siamo riusciti a costruire una rete di imprese che oggi rappresenta il 100% della forestazione in provincia di Foggia. È stato un lavoro veramente molto pesante, duro, ma che ha dato dei grossi risultati. Oggi siamo praticamente in un riferimento importante per quanto riguarda questo settore e dialoghiamo sul territorio per eventualmente proposte nuove, innovative. Presidente, quali sono i fiori all'occhiello del CONFAT di questi anni? Beh, io dei fiori agli occhielli ce ne sta più di uno. Immagino che prendiamo come riferimento alcuni degli interventi che abbiamo realizzato sul territorio, che sono comunque interventi importanti. Sono molto più conosciuti quelli che oggi praticamente sono visibili, perché molti degli interventi logicamente riguardano proprio gli addetti ai lavori. Gli interventi forestali, prettamente forestali, sono stati realizzati su quasi tutto il territorio, ma molto probabilmente le cose che noi notiamo di più, sono più visibili, sono gli interventi relativamente alla realizzazione di parchi tematici, come quello di Biccari, come quello di Pietra, Motta, ma anche altri interventi tipo la sentieristica. Sono stati degli anni, tra l'altro, importanti perché abbiamo proposto anche idee innovative. Tra queste idee innovative io sottolineo questo progetto che sta partendo, che è già partito con una fase sperimentale, speriamo che continui in questi anni, che è quella della mappatura dei sentieri, perché riteniamo che possa essere un elemento in più per portare eventualmente una forma di turismo ambientale, più un turismo di prossimità. E secondo noi, lo dico perché è una scelta che stiamo facendo come impresa, quindi come consorzio, sarà un elemento importante per lo sviluppo di questo settore. Posso permettermi di aggiungere anche Parco San Felice? Sì, Parco San Felice è stata praticamente una parentesi importante per noi. Noi, diciamo così, guardiamo molto la città, la città capoluogo. Chiaramente per quello che facciamo non possiamo certamente fare interventi di forestazione, però riteniamo che il contributo deve essere, per quanto riguarda questa città, deve essere di tutti. Quindi una volta tanto la provincia corre in aiuto alla città, insomma perché era uno dei posti degradati, un posto diciamo così importante, un polmone verde della città che bisognava comunque restituire alla città. Ecco, siete stati invitati ad un tavolo molto importante, quello del Ministero, per un progetto importante, quello sulle forestazioni in Italia. Siete stati invitati perché vuol dire che valete sul territorio, ma anche non solo sul territorio proprio locale, ma anche nazionale. Sì, chiaramente siamo presenti al tavolo nazionale ormai da un po' di anni. Facciamo parte comunque, voglio dire, di un comitato di settore che comprende un pochettino tutti i vari rappresentanti della cooperazione, quindi dove c'è la GC, c'è la Lega e quindi ci sta anche Conf Cooperative. Chiaramente questo lavoro negli anni ci ha permesso di avere una visibilità al punto tale che siamo stati praticamente convocati al Forum Nazionale delle Foreste. Questo per noi è stato un momento importante, un riconoscimento al lavoro che si è fatto in questi anni. Ecco, prima di chiudere ci dà la visione di quello che può essere il 2017 per la forestazione in tutta la provincia e del vostro lavoro. Diciamo che ci sono molte idee in cantiere, intanto due cose importanti. Il primo è che bisogna trovarsi pronti per la futura programmazione e faccio riferimento al nuovo PSR, ai fondi comunitari per quanto riguarda questo settore, perché è uno dei settori che ha bisogno di aiuto e quando dico aiuto intendiamo di finanziamenti pubblici, quindi non possiamo perdere questa occasione. E poi stiamo lavorando a un progetto di programmazione, di pianificazione territoriale che abbiamo lanciato da qualche mese, che si chiama Contratto di Foresta. Il Contratto di Foresta non è altro che un protocollo che coinvolge i comuni, che coinvolge i portatori di interesse. Ci sarà l'università, ma ci saranno anche altri soggetti importanti, interessanti, interessati al territorio, che lavoreranno insieme con noi per proporre eventualmente progetti integrati in cui si guarderà al territorio con un occhio diverso.